buona sera io i suoi vedi e questo è appena attaccato alle Shaker, un programma che il lunedì presenta questo musicale con una cifra di diziennes di denti a seconda della serata, trasmetto dalla radione di Forlana che in giù il friù è la sinistra di 90 MHz, in giù la giornata è la sinistra di 90.2, ma non parlare, che i canali chiamano di là sulla rete e chiamano sul sito di radioondeforlane.eu chiamano due podcast da radio e naturalmente anche Shaker, chi può ascoltare sia in streaming che si chiamano di ascoltarci qualche volta voglio anche se non vedete la rete è noto di Tachinkum che il capo essi forse considerato uno dei primi supergroups della storia del rock, jazz, ed è stata tirata da Ciccoria ad enti e personalità di un certo spessore come Stanley Clarke, Aldi Mella, Lenny Wright e tutta una serie di musicisti che partecipano al corso degli anghi si chiamavano Retro to Forever e noi non ascoltiamo Romantic Warrior 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e la canzoni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti. e... e... e tutti. 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 e... 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 e tutti. e... 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 e...